segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ecco la mia sensazione ma qui siamo nel campo delle sensazioni e che all'interno di una coppia diciamo giovane esposta innamorata e comunque burrascosa ci sa anche che un marito esca di casa poi ritorni poi riesca e poi insomma non si sa come va a finire ma sicuramente la donna che io ho incontrato è una donna che quel matrimonio lo voleva ancora difendere e a cui avrei sicuramente regalato chi più che lei ne ha bisogno il tuo ultimo libro sei un genio dell'amore e non lo sai perché mi pare un'importante lettura per i feriti